E' tutto pronto allo Stadio San Paolo per una partita fondamentale per il passaggio del turno di Champions League e che vede i padroni di casa del Napoli ospitare il Paris Saint-Germain. Sfida delicatissima quella che attende le due formazioni, il gruppo C vede infatti tre squadre lottare per i primi due posti con il Liverpool al comando con sei punti davanti agli azzurri a 5 e ai parigini a 4. Gli azzurri vengono dal positivo risultato dell'andata 2-2 che nonostante la delusione per il pari di Di Maria nel finale ha visto la formazione partenopea imporre il proprio gioco al Parco dei Principi sfiorando il colpo grosso. Saranno 55.000 gli spettatori al San Paolo e Carletto Ancelotti alla quindicesima gara stagionale per la prima volta non dovrebbe schierare una nuova formazione ma quella che ha dominato all'andata a Parigi con Maximovic a destra in difesa e Mertens in attacco con Insigne. Non a caso contro l'Empoli ha preservato Albiol, Mario Rui, Amsic e anche Caglione e Allan impiegati a gare in corso. L'unico ballottaggio riguarda la sinistra con Fabian Ruiz però in netto vantaggio su Zelisky. Il Paris Saint-Germain ha vinto 12 gare su 12 in campionato, 13 su 15 considerando anche la Champions. Il PSG fin qui si sta dimostrando una superpotenza ma nello scontro diretto con il Liverpool è caduto e all'andata col Napoli si è salvato nel finale. Il grande ex Cavani è in forte dubbio, non è al 100% e per questo Tuchel potrebbe decidere di lasciarlo fuori. In caso di forfè il tecnico tedesco potrebbe proporre una formazione più equilibrata con Di Maria nel tridente con Bappé e Neymar. A centrocampo ci saranno Verratti, Rabiot e Muner mentre in difesa Marchinhos, Thiago Silvia e Kerrer davanti al rientrante Buffon. La musichetta della Champions è pronta, il Napoli e i napoletani ci credono vietato, fare calcoli bisogna scendere in campo facendo vedere quanto di buono fatto fino ad ora i conti poi si faranno soltanto alla fine.